Il 25 giugno prossimo, dalle 12.30 alle 20.30, si terranno le votazioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati del nuovo IMAIE. Il voto può essere espresso recandosi all'unico seggio presso il Teatro Eliseo, in via nazionale 183 a Roma, oppure per corrispondenza. L'Assemblea è eletta da tutti i soci dell'Istituto e ha il compito di discutere e approvare le linee politico-programmatiche. L'Assemblea rimane in carica a quattro anni dalla data di insediamento. Si vota utilizzando la scheda ricevuta per posta o ritirandola direttamente al seggio. L'elettore esprime il voto e inserisce la scheda nell'urna riservata alla propria categoria. È possibile esprimere solo il voto alla lista, barrando il riquadro posto a sinistra del nome della stessa. Non è possibile votare per più liste o apporre sulla scheda di votazione segni identificativi. Se pensi di aver commesso un errore, puoi comunicarlo alla Commissione. Il voto espresso per corrispondenza avviene utilizzando il seguente materiale che il nuovo IMAIE ha spedito. Una nota a firma della Commissione elettorale fronte-retro. Una busta bianca già francata, sulla quale sarà riservato uno spazio per inserire i dati del mittente e indirezzata a nuove IMAIE. Il certificato elettorale da compilare in ogni sua parte e firmare. Una breve guida di istruzioni per il voto. Una busta piccola nella quale inserire la scheda elettorale. L'elettore che voglia avvalersi del voto per posta dovrà inserire la scheda elettorale nella busta piccola colorata senza porvi alcun segno identificativo e chiudere la stessa. Inserire la busta piccola contenente la scheda votata nella busta bianca già indirizzata insieme al certificato elettorale compilato e firmato. Richiudere la busta bianca apponendo sul lembo di chiusura la propria firma. Tale materiale dovrà pervenire alla Commissione elettorale entro il 25 giugno 2018, quindi raccomandiamo di spedirlo quanto prima per garantire i tempi di consegna che vanno da 1 a 4 giorni. Per gli elettori residenti all'estero, non potendo preaffrancare la busta, l'elettore sarà rimborsato con la prima ripartizione utile. Il voto sarà considerato nullo nei seguenti casi. Quando la scheda porti la firma o qualunque altro segno atto a identificare l'elettore. Quando il voto non consenta di individuare con certezza la volontà dell'elettore. Quando la busta piccola contenga altro materiale oltre alla scheda di votazione. Quando non sia accompagnato dal certificato elettorale debitamente compilato e firmato. Lo scrutinio al quale potranno partecipare solo i rappresentanti di lista avverrà presso la sede del nuovo IMAIE il 26 giugno prossimo dalle 9 e 30. Per ogni categoria, audiovisivo e musica, risulteranno eletti come delegati i primi 12 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. I restanti 8 saranno eletti in proporzione ai voti presi da ciascuna delle liste candidate. La proclamazione degli eletti sarà pubblicata sul sito internet del nuovo IMAIE e inviata per posta elettronica a tutti gli associati.